E' di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale accaduto lungo la strada provinciale 25 in località Manciano nel comune di Castiglion Fiorentino questa mattina. L'allarme al 118 dell'Asla Toscana Sud-Est è scattato alle 7.43. Per causa e in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza di Castiglion Fiorentino, l'ambulanza della Misericordia di Monte San Savino, l'automedica di Cortona, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le due persone rimaste ferite sono una donna di 48 anni che è stata trasferita in codice 3 con l'elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale Le Scott di Siena e un uomo di 21 anni, anche lui trasportato a Siena, sempre in codice 3 da un'ambulanza.